è un piatto semplice, può diventare qualcosa di veramente delizioso, catturare subito l'attenzione e stimolare l'appetito è il caso di queste patate schiacciate al forno che si realizzano davvero in una maniera semplicissima, quasi banale ma alla fine risulteranno irresistibili vediamo subito cosa ci serve per prepararle io utilizzo 900 grammi di patate e poi erbe aromatiche per dare profumo a questa pietanza utilizzerò un bel po' di pepe nero, aglio, formaggio grattugiato e come sempre sale e olio da che cosa iniziamo? proprio da loro, dalle patate dovete lavarle davvero molto bene perché per questa ricetta è previsto lasciarle con tutta la boccia una volta completato questo lavoro le andiamo a mettere in una bella pentola capiente con acqua fredda ci spostiamo sul fuoco e portiamo a bollore dal bollore le patate a seconda delle loro dimensioni vorranno cuocere almeno 20 minuti o 30 minuti fino a diventare morbide la forchetta dovrà penetrarle senza tanta resistenza tuttavia non dovranno cuocere proprio tantissimo perché ci sarà poi una seconda cottura in forno iniziamo a preparare una bella emulsione quindi in un pentolino mettiamo due spicchi di aglio magari schiacciandolo così può sprigionare ancora meglio il suo profumo mettiamo anche le foglie di salvia, il rosmarino e versiamo una buona quantità di olio di oliva mettiamo sul fuoco giusto per un minuto vogliamo solamente che si riscaldi perché riuscirà così a tirare via proprio tutti i profumi e i sapori delle erbe aromatiche adesso arriva il momento più divertente perché dobbiamo munirci di un batticarne oppure di un bicchiere e dobbiamo schiacciare le patate quindi scafazzarle un pochettino non del tutto ma giusto un po' appiattirle e creare delle crepe anche nella buccia di modo che possano poi assorbire meglio anche il condimento andiamo anche a mettere una bella spolverata di pepe nero ancora un pizzico di sale se è necessario riprendiamo il nostro olio aromatizzato davvero profumatissimo e con un pennello lo distribuiamo su tutte le patate cercando proprio di abbondare per fare in modo che tutte le patate siano ben bagnate e possano assorbire i profumi e completiamo con qualche manciata di formaggio grattugiato il forno è già caldo modalità ventilata a 180 gradi andiamo a cuocere le nostre patate schiacciate per 20 minuti e poi per una bella doratura in superficie azioniamo anche il grill gli ultimi ulteriori 10 minuti in una mezz'oretta le patate saranno pronte le portiamo subito a tavola per gustarle croccantissime fuori ma davvero molto tenere e gustose all'interno lasciate un commento se questa ricetta vi piace o vi incuriosisce o se l'avete già provata vi aspettiamo anche sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it per tante altre idee per tante altre idee Grazie.